Sono passione e cura i due valori sui quali si fonda il workshop di gioielleria ideato dalla realtà di Vallefoglia, Basili Gioielli, in collaborazione con l'Istituto Superiore per le Imprese Artistiche di Faenza. Un incontro tra due orientamenti solo apparentemente diversi, quello dell'oro e quello della ceramica, dando vita ad un prodotto tanto sperimentale quanto attuale. Dai fondamentali di modellazione arcaica alle più moderne metodologie di sviluppo di un gioiello. Il laboratorio orafo di Stefano Basili, titolare dell'omonima impresa, si è mostrato in ogni sua forma e dettaglio attirando la curiosità degli studenti. L'Istituto di Faenza, che è specializzata nella ceramica, nel design industriale sulla ceramica, grazie al professor Fiore, con cui collaboro delle volte con dei gioielli, hanno voluto unire questi due mondi, provare a unire questi due mondi, il mondo della ceramica con il mondo del gioiello. Siamo partiti bene, l'alluvione del Gioiello ha ridimensionato un po' il progetto, però oggi i ragazzi sono qui, sono di visita per vedere l'incontro tra le tecnologie moderne e arcaiche e vedere quali sono i processi produttivi e per prendere maggior consapevolezza per poi progettare cose che probabilmente faranno anche quest'altro anno perché sembrerebbe che la direzione accademica abbia deciso di questa cosa farla diventare permanente o comunque dargli una corposità maggiore oltre al workshop appena finito, appena che sta finendo. Ora, il ceramica ha due materiali che sono legati in qualche modo. Sì, con un po' di difficoltà, infatti qui c'è il CER che è intervenuto, il centro di ricerca di Faenza, perché le dimensioni del gioiello sono un po' complicate per la ceramica. Sicuramente molto interessante anche perché il mondo della gioielleria si sta andando alla ricerca di materiali diversi, tipo appunto il titanio per il metallo e la ceramica potrebbe essere qualcosa di molto interessante piuttosto che usare pietre sintetiche o cose molte volte direi anche meno nobili. È stata anche una vera e propria visita all'interno del vostro laboratorio, i ragazzi sono stati davvero entusiasti. Sì, sì, perché logicamente tutto quello che gli avevo un po' spiegato, illustrato con le slide, vederle dal vivo, toccare con mano o anche interagire con i ragazzi stessi. Noi siamo una realtà di 23 persone che è già corposa perché calcolando che la dimensione media e quindi 15 persone in Italia. Solitamente i laboratori orafi sono piccoli, logicamente il nostro è anomalo perché facciamo produzione anche, per cui tutto il sviluppo prodotto, tutte le fasi, molte volte sono realtà diverse, aziende diverse, noi abbiamo concentrato tutto interno, per cui tutti internamente, per cui i ragazzi che probabilmente diventeranno più designer che esecutori, non è detta poi, anzi qualcuno sembra che abbia intenzione di fare l'orafo, di fare l'incastanatore, vederle, logicamente si prende consapevolezza e nasce la passione. Ecco, la formazione è importante soprattutto in un settore che non sta vivendo un grandissimo periodo per quanto riguarda l'occupazione. È in difficoltà nel senso che abbiamo avuto, allora l'Italia una volta era il primo posto a livello di produttore mondiale, sono rientrati tutti i grandi brand stranieri, diciamo dalla Thailandia, comunque dall'Asia, e sono ritornati d'Italia, è l'unico posto dove si può fare gioelleria ad alto livello. Il problema è che il buco formativo che c'è stato in questi anni, oggi è un gap di 3.000 persone, è una carezza di 3.000 persone. Fortunatamente c'è un grande interesse da parte dei ragazzi, è che non trovano strutture, e per cui il cercare di, a breve, di far avviare dei corsi fatti bene, perché il problema è che i corsi farlocchi, diciamo, o di corsi dove servono per spillare i soldi i ragazzi ce ne sono, e purtroppo invece bisogna fare qualcosa che sia veramente formativo, se possibile anche gratuitamente. La vostra è una piccola impresa del territorio locale, di Pesaro Urbino, però con un cuore grande e tanta la collaborazione con imprese invece molto importanti a livello nazionale, ma anche internazionale. Sì, sì, diciamo che la nostra peculiarità è proprio quella dello sviluppo prodotto, e di conseguenza questo ci ha permesso, in prevalenza, di lavorare con, diciamo, aziende fuori territorio, cioè noi abbiamo tutti i clienti, logicamente, che sono prevalentemente del nord, non solo, e all'estero, e vengono fino a Pesaro per dei motivi precisi che sono quelli dello sviluppo prodotto.